Mi chiamo Cristina Giotto, mi occupo delle pubbliche relazioni di ATE e Tessi di Ticino e da due anni sono vicepresidente di Clusis. Il settore della cybersicurezza è in grande evoluzione e anche il termine forse obsoleto. Preferisco parlare di cyberwarfare. L'utilizzo di software e hardware per la protezione delle informazioni sensibili e delle infrastrutture è necessario, ma certamente non più sufficiente. Serve un nuovo approccio basato sulle sinergie tra pubblico e privato, fortemente orientato alla condivisione delle informazioni e alle esperienze e soprattutto alla formazione continua e interdisciplinare del personale, nessuno escluso. Essere un passo avanti dei cybercriminali sarà possibile solo se riusciremo a entrare nella loro formamentis, cosa non facile, perché richiede resilienza, visione e soprattutto collaborazione. Il criminale cyber è ben organizzato e gode del vantaggio di potersi muovere con grande facilità, senza troppe regole. Il suo scopo è quello di minimizzare costi e rischi, massimizzando i ricavi. Credo che l'arrivo di nuovi ingegneri ben preparati in questo campo possa contribuire a rendere la sicurezza cyber più resiliente ed efficace. Swiss Cyber Security Day è un'occasione imperdibile, alla quale mi auguro che saranno molti ad aderire e molti ticinesi, ovviamente. Una grande occasione per incontrare i maggiori attori che in Svizzera operano questo campo quotidianamente, riuniti tutti sotto lo stesso tetto. Senza dubbio un momento di grande condivisione a livello nazionale, che potrà dare interessanti opportunità in termini di nuove collaborazioni tra pubblico e privato. Vi aspetto pertanto a febbraio a Friburgo, a Swiss Cyber Security Day.